Sara e Bianca si sono rivolte ad un centro estetico. Sara è felice perché si è rivolta ad un professionista certificato. Bianca è triste ed insoddisfatta perché ha approfittato di una delle tante offerte trovate online e per questo non ha ricevuto un servizio di qualità. Se non vuoi cadere anche tu vittima dello stesso errore di Bianca, scopri con Sara i vantaggi che ad oggi Confestetica offre a milioni di persone in Italia. Registrarsi a Confestetica è semplicissimo. Basta inserire i tuoi dati personali ed in pochi secondi ti arriverà l'email di conferma. Ora hai accesso a tutti i servizi di Confestetica. Prenota il tuo primo trattamento, indicando il tipo di servizio e data ed orario in cui vuoi riceverlo. Una volta cliccato su Invio, la tua richiesta sarà automaticamente letta dai nostri sistemi che cercheranno il centro estetico adatto a soddisfare le tue esigenze. E non appena verrà individuata la prima estetista professionista disponibile, il tuo telefono squillerà e potrai direttamente fissare l'appuntamento nel giorno ed ora da te scelti. Una volta fissato l'appuntamento, ti manderemo in automatico un sms e una mail il giorno prima ed un'ora prima dell'incontro come reminder. Ma i vantaggi di utilizzare Confestetica non finiscono qui. Tutti gli estetisti iscritti all'albo nazionale di Confestetica rispettano rigorosamente il codice deontologico professionale. Inoltre, ogni giorno i nostri utenti lasciano recensioni sugli estetisti professionisti e sui centri estetici che hanno frequentato, garantendo un ulteriore controllo di qualità. Tutti questi servizi di prenotazione sono completamente gratuiti. Cosa aspetti? Registrati subito su Confestetica. Grazie. 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 Grazie.